Oggi voglio raccontarvi di quella volta in cui cardi da ponteggi. Stavo affrescando il giudizio universale e ero al lavoro già da un po' mentre il mio amico Francesco Amadori, noto come l'urbino e più, mi immaginava i colori. Forse per la troppa fatica o per un giramento di testa di troppo fece un passo falso. Beh, in realtà di passi falsi nel corso della vita qualcuno l'avevo già fatto, ma quello mi costò veramente caro. Me la cavai con una frattura molto importante alla gamba e una botta così forte che ancora, se la ricordo, mi fa male. Non volevo farmi curare da nessuno, ma alla fine dovete cedere, il dolore era troppo e dovevo ricominciare a dipingere. Fu un medico fiorentino che già da tempo si trovava a Roma a curarmi, Baccio Rontini. Venne a sapere per vie traverse che avevo avuto questo incidente e siccome non volevo farmi trovare da nessuno, venne a bossare alla mia porta. Io non risposi, ma lui, conoscendo bene la mia testardaggine, entrò senza farsi troppi scrupoli. Al tempo le porte non è che si chiudevano come oggi con le chiavi e chiavistelli. Continuo a cercarmi per tutta la casa, ma io non volevo farmi trovare. Mise in allarme galline e gatti che vivevano con me. Alla fine però riuscì a scovarmi e si prese cura di me con una pazienza che nemmeno Giobbe ne avrebbe avuta tanta, ve lo assicuro. Ecco, se oggi potete ammirare il giudizio universale così come lo vedete, soprattutto terminato, un po' lo dovete anche a questo medico, il dottor Rontini, che si prese cura delle mie ferite. Grazie